It's time! La forza della nostra Kate Kane che in totale ha tre vittorie e una sconfitta, due vittorie per KO, una vittoria ai punti, quindi grazie alla decisione dei giudici, ma il terzo match che abbiamo fatto lo abbiamo dominato, mentre contro la Jacobs, beh, diciamo che i giudici hanno deciso di votare per lei perché è stata sempre su Kate Kane. Lo so che è bella, però non è normale come cosa. Quindi, signori, difficoltà. Facile, media, difficile o leggenda? Quindi non c'è più la pro. O difficile o leggenda. Facciamo difficile, come lo scorso anno, quindi sarebbe la pro dello scorso anno. Avanziamo e quindi iniziamo finalmente questa carriera. Abbiamo tre incontri sul contratto, ci daranno 6.000 per la presenza, 1.500 per la vittoria. Possiamo firmare il contratto. Vai! La X? Che cos'è? Non sa né intendere né volere? Simulazione fino alla prossima offerta. Vediamo un po'. Eccola qui l'offerta. Home della carriera, finalmente siamo entrati nel vivo. Facciamo come nella scorsa serie. Facciamo un incontro a puntata, ma se l'incontro finisce prima ne facciamo due. Quindi offerta. Andiamo a vedere. Accedi al menu combattente. Va benissimo. Dopo questo incontro, Kate Kane, in ogni vittoria, attenzione, facciamo così. Ogni volta che vince, un nuovo tatuaggio. Visto che comunque passeranno, passeranno parecchi giorni da un incontro all'altro, perché non è che lotti e fai un match ogni due minuti, ma lo fai nel giro di tot di mesi, gli cambiamo anche un po' l'aspetto. Quindi la modifichiamo leggermente come se crescesse. Ok, abbiamo un messaggio. Mi serve un incontro. Ok, non mi interessa questo. Qui abbiamo con R3 evoluzione combattente. Andiamo a vedere. Miglioramento degli attributi. Un'altra volta sto miglioramento. Precisione, coperture, gioco di gambe. Io voglio la resistenza. Pugni, difesa in takedown. Quindi possiamo andare a migliorare. Io andrei sul recupero. Facciamo sul recupero. Abbiamo 200 punti per migliorare il recupero. Ne servono 13. Quindi io andrei a farlo. Forza gambe, mandibola, forza corpo. Poi abbiamo le mosse. Attenzione, perché le mosse sono molto importanti. Abbiamo il jab. Eccolo qui. Poi abbiamo il diretto. Vediamolo un po' il diretto. E voilà. Quindi va a potenziare, diciamo, le mosse che abbiamo già. Ok. Mentre. Calci. Clinch. Atterra. Atterra. Mosse per alzarsi. Ecco qui. Possiamo migliorare questo. Ok. Rialzarsi. Lotta libera. Facciamo questo. E potenziamo tutto. Sottomissioni. No. Combo no. Vantaggi. Vediamo cos'è. Ah. Ah. Fuori dai cancelli. I colpi consumano meno resistenza durante il primo e il secondo round. Mamma mia. Schiva come nessuno. I piegamenti, mentre rimani fermo in piedi o ti sposti in avanti, risultano più efficaci nello schivare i colpi. Predatori. I movimenti più rapidi. Quando avanzi o ti sposti lentamente. Sono più rapidi. Sono più intoccabile. Cosa c'è più? Vediamo un po'. Resistente alla tempesta. Io vorrei la resistenza. La resistenza. Stordimenti. Spostamento. Calci. Coperture. Azioni. Le azioni. Ecco qui. Maratoneta. Facciamo questo. E lo mettiamo. Ehm. Qui bisogna aspettare. Bisogna diventare prima un combattente della UFC. Abbiamo ancora 175 punti che andremo a potenziare sulla potenza dei pugni. Ehm. E la velocità. Ehm. Potenza calci. Sicure. Ci sta. Io continuo sulla potenza pugni. Si. Continua così. Cambio guardia. Difesa dai takedown. Mettiamola. Ehm. Salute. Salute. Andiamo un po' su salute. Forza corpo. Resistenza alla fatica. Vai. 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 Si. Voglio assolutamente potenziare al massimo la resistenza alla fatica. Ehm. Recupero. E così abbiamo potenziato la nostra Kate Kane. E adesso andiamo sulle offerte. Questa è una proposta di incontro. Ehm. A volte le proposte di incontro possono essere rifiutate. Se rifiuti una proposta di incontri potresti creare una rivalità. Ma anche influire negativamente sui futuri contratti e bonus. Vabbè. Allora. Ehm. Per forza contro di lei. Che ha sei vittorie e due sconfitte. Molto molto male. Sei vittorie. Anna. Bernard. Ed è l'unica che possiamo affrontare. Quindi accetto l'incontro. Ehm. Settimane all'incontro. Quota palestra. Quindici. Facciamo una settimana all'incontro. Va bene. Simulazione. In allenamento. Possiamo fare un po' di sparring. Che farò adesso. E farò qualche taglio. Filmati. Scopri alcune informazioni sulla tua avversaria. Ehm. Sì. 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 Voglio questo. Voglio questo. Fai. Ok. Ha una stella e mezza. E sappiamo. Adesso. Facendo questo tipo di allenamento. Che non è fortissima. Bisogna cercare di andare in forma. Lì ci fa vedere che attualmente siamo in condizioni. Non dico pietose ma quasi. Quindi andremo a fare un po' di sparring. E qui possiamo scegliere. Tra il tipo di sparring. Box. Muatai. Lotta libera. Eccetera eccetera. Basso rischio di infortuni. Io andrei su box. Almeno inizialmente. Benissimo. Un altro calcio al corpo. Alziamo. La resistenza. Della nostra. La forma. Della nostra Kate Kane. E poi ci andiamo a fare. L'incontro. Benissimo. Yes. 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 Sì ragazzi. Ragazzi. Alla fine ci conviene fare così. Ci conviene. Fare una battaglia. Appuntata. Visto che ci saranno anche gli allenamenti. Che ovviamente vi taglierò. Però qualcosa ve la devo far assolutamente vedere. Se no non capite nulla della serie. Al massimo mi posso fare questi allenamenti in privato. E farci il match. Nel caso riusciamo a battere velocemente l'avversario. L'avversaria. Allora in quel caso andiamo diretti con il secondo match. Distribuisci i manifesti. Scrivi sui social media. Io andrei a fare scrivi sui social media. Ok. Attenzione. C'è una stories. Della SPN MMA. Ah nel caricamento ci sono stories. Bellissimo. Bellissimo. Pronti signori. È ancora troppo presto. Per Kate Kane. 18 anni contro 24. Vediamo se riusciamo a portarla a casa. Se battiamo Anna. Abbiamo migliorato la nostra lottatrice in modo incredibile. E quindi è vero che c'è difficoltà. Però. Attenzione perché abbiamo una piccola penalità sulla forma. Facciamo stancare Bernard. Che va vuoto. Un po' così e così. La vedo un po' fuori forma Kate Kane. In queste prime puntate è normale commettere alcuni errori. Poi pian piano cercheremo di sbagliare il meno possibile. Ricordiamoci anche che più cerchiamo di evitare danni. In questi incontri. Più la longevità della nostra lottatrice aumenta. Però per il momento non sta funzionando. Va bene. Calcio spettacolare. Vuoto di Bernard. Che continua. Ci infiliamo nella guardia di Bernard. Ancora una volta. Calcio alla gamba sinistra. Per indebolire il tutto. E ancora un calcio alla testa. E un montante. Anzi un gancio. Destro. E ha provato a prenderci. Anche Bernard sa delle difficoltà in presa. In difesa. Sulle sottomissioni. Ma soprattutto da terra. Bene. Vediamo se la Bernard ci darà problemi in questo incontro. Ma è migliorata tantissimo Kate. Bellissimo. Abbiamo recuperato il controllo della distanza con un movimento difensivo. E poi abbiamo subito attaccato. attenzione. Attenzione. Perché ci butta a terra. Lo sa anche lei. Ma ci alziamo. Sì. Ci alziamo. Occhio qui. Dobbiamo uscire. Ci ributta a terra. Ci sta facendo male. Sanno tutti della debolezza di Kate Kane. Cercheremo di migliorare. Con calma. Con calma. Facciamola stancare adesso. Ok. Adesso possiamo uscire. Usciamo da qui signor. Non ci credo. Non ci credo. E parte la sottomissione signori. E parte la sottomissione. Occhio. E guardate che difficoltà eh. Si sente la difficoltà. Anche se non è leggenda. Non ho messo leggenda anche per la questione di Poi non Non vedete praticamente più nulla. C'è sto Troppo difensivo. Almeno così. Niente. Anche questa La vuole vincere così. Ma io adesso Mi sono rotto. E incomincio ad attaccare come Una faina. Dai. Bisogna indebolirla in questa maniera. Dai. Dai. Vienimi a prendere di nuovo. Vienimi a prendere di nuovo. Tu non la vinci. Tu non la vinci così. Non te la do. Non te la do la possibilità di vincere. Basta. È successo anche nella vecchia serie Con Pierluigi Annecchino. Esci da qui. Di nuovo. Dicevo. È successo anche Nella vecchia serie. Che all'inizio abbiamo avuto Tante. Troppe difficoltà con Il nostro ex lottatore. Poi Il tutto è andato in discesa. No. Questa ci fa stancare. E quindi è il momento Di attaccarla così. Almeno i giudici vedono che Non mi faccio frecare. Ci giriamo. Non riusciamo ad alzarci. Ci ributta a terra. E la resistenza Si sta abbassando. Un minuto al termine. Eccola la sottomissione. Ecco la sottomissione signori. Potrebbe farci Tantissimo male questa. È tosta. È tosta da battere. Usciamo da qui. Va bene. Recuperiamo. Rialziamoci adesso. Adesso mai più signori. Adesso mai più. Mai più signori. Maledetta. Maledetta. Ci fa stancare tantissimo. È ancora una battaglia a terra. E bisogna migliorare La nostra difesa A terra. Merdaccia. Sei una merdaccia. Lo sai? Esci da qui. Niente. 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 Finisce il primo round. Ce la facciamo a terra. Mi sa che la devo Imbrutire Kate Kane. Perché ci stanno Praticamente Buttando a terra Vogliono praticamente Fare un orge Non ho capito. Comunque i replay Sono a favore Di Kate Kane Almeno per il momento. Vediamo un po'. Sì questi sono Quella Serie di ganci Che ha dato Kate Kane Ma attenzione Ancora una volta Al gioco Della Bernard Bene 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 Teniamola lontana Benissimo Tieni la lontana Aia Ci ha spaccato eh Ci ha spaccato Con un calcio Incredibile La buttiamo a terra Eh ma A terra io non ci vengo Non ci vengo a terra Non ci vengo a terra Maledetta Ah cade Kate Sgambetto Nel momento del calcio Eh qui No 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 Eh di nuovo No basta Ti prego Ti prego basta Te lo chiedo Per cortesia Oh oh Alzati 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 Oh Ce l'abbiamo fatta Velocemente E adesso attenzione Ancora No vabbè io davvero Non ho parole Non ho parole signori È un qualcosa di incredibile Tutti che vogliono Battere Kate così Ti distruggo Ti distruggo la vita Giriamoci Attenzione alla sottomissione Alzati Alzati Kate Alzati 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 Dai che ce la fai Ancora una volta Siamo messi malissimo eh Siamo messi abbastanza male Bene Siamo migliorati Comunque Abbiamo migliorato Il nostro Repertorio E adesso ti faccio vedere Io la fine che fai Maledetta C'ha l'uomo nero No non lo posso dire Dai dai Vai Dai Due minuti Oh e basta Oh Ancora una presa Ha tentato Ancora una presa Vuoto Vuoto anche nostro No Non ti fa prendere Ti fa prendere Vai Calcio circolare Di livello 2 Ha provato Ancora una presa Più 8 I punti che ci servono Per crescere Quindi nella prossima puntata Avremo un upgrade Ehi Ferma Vuoto E qui la rischiamo Qui la rischiamo E siamo di nuovo a terra Che palle Dai dai Alzati 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 Adesso Bene Madonna Che ti faccio adesso Madonna Che ti faccio adesso Madonna Che ti combino Le gambe Ti spezzo in due Ti spezzo in due Ti spezzo in due Vado di diretti Occhio Oh Sì Mi Vai Uccidila Uccidila Vinta E l'abbiamo vinta E basta adesso E basta adesso Kate Kate Cain Mamma mia che botta Mamma mia che botta Ha preso Che bello Che divertimento Questo gioco E questa serie Kate Cain Nella prossima puntata Cambierà qualcosa Il look Vestiti Pantaloncini E tantissime altre cose Bellissimo Siamo riusciti a vincere Storico incontri Una vittoria Zero sconfitte E zero pareggi Abbiamo adesso 21 Punti Evoluzione Che sarebbero Quel cerchietto Con La stellina Viola Ok Quelli si chiamano Punti evoluzione Molto molto bene Quindi Offerta Vediamo Vediamo chi Andare a affrontare Nella prossima puntata Abbiamo Sofì Hao Sofì Hao Oppure No Solo Sofì Va bene Solo Sofì Portata 1,63 52 kg Per 1,65 27 anni E quindi Nella prossima puntata Andremo ad affrontare Questa cinesina Che si chiama Sofì 7 vittorie 3 sconfitte E Zero pareggi Accetto L'incontro E Allora Quota palestra 45% Possiamo fare Settimane All'incontro E guardate Lì in alto Quella Barra Color Celestina È la nostra longevità Quel pezzettino rosso È la longevità Che abbiamo perso In tutti questi incontri Quindi Dobbiamo cercare Di subire Il meno possibile Adesso Per evitare Tutto ciò Io andrei Di 3 settimane No facciamo 4 4 settimane Avanziamo Simulazione Fino Al giorno Dell'allenamento È ora di portare Qualche nuova leva Va in palestra Kate Vuoi che faccia Qualche telefonata Grazie coach Cercherò di imparare Tutto quello che posso Va bene Facciamo così Accettiamo E vediamo Chi ci porta Oppure se lo dobbiamo Scegliere noi Sì Dobbiamo Scegliere noi Il pugno da superman Non è che mi piace Tantissimo Dai Proviamoci Sempre un pugno nuovo È E poi Possiamo comunque Imparare il calcio alternato Al corpo principale E la ginocchiata Quindi Andiamo Ah no Devo scegliere È Jeb da superman Jeb da superman Ah ma lo devo imparare adesso Va bene Eccolo qua 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 Andremo Andremo Pugno di superman Quindi nuova mossa Che andrò a selezionare Cercherò di sviluppare La mia Kate Vi darò informazioni Nella prossima puntata Quindi Andrò a fare un po' Di allenamento E prepararmi Già all'incontro In caso di Vittoria O sconfitta Velocissima Andremo a fare Un altro incontro Quindi 1-2 incontri A puntata Un bacione Un abbraccione E ci vediamo Nella prossima puntata Stiamo facendo davvero Molto molto bene Ciao a tutti Sous-titrage ST' 501